Dal 6 al 9 giugno prossimi, oltre 250 milioni di cittadini europei sono chiamati alle urne. Dovranno eleggere i loro rappresentanti al Parlamento europeo. Si tratta di un esercizio democratico senza uguali nel mondo, un esperimento politico e sociale unico. In un contesto elettorale segnato dal dilagare della disinformazione e anche, diciamolo, della cattiva informazione, pensiamo sia fondamentale che i cittadini e le cittadine abbiano a disposizione notizie di qualità, varie e verificate. Una finestra sull'Europa che consenta loro di votare con conoscenza di causa e tenendo lontano il chiasso, il gossip, l'invettiva, l'approssimazione e il sensazionalismo. Perché è anche su questi elementi che l'estrema destra fonda la sua narrazione e il suo successo, ed è su di essi che punta per smantellare l'Europa della solidarietà, dell'eguaglianza, dell'apertura e delle conquiste sociali ed ambientali alle quali teniamo. Non siamo un giornale politicamente neutro, anzi vogliamo difendere questi valori e lo facciamo in modo trasparente e onesto. Oggi anche VoxEurope è in campagna, seppure non elettorale. La redazione ha bisogno del tuo sostegno, quindi non astenerti e abbonati a VoxEurope. Grazie. Grazie.